Come stai oggi? È successo qualcosa che ti turba? O magari è semplicemente una giornata un po' storta? Relief è qui per te, in metropolitana, fermata isola, a Milano, o nel nostro studio virtuale, online. Sette giorni su sette, dalle otto alle venti, Relief è il primo pronto soccorso psicologico dedicato alle emergenze emotive e al benessere quotidiano. Obiettivo? Il tuo sollievo rapido. Il nostro staff di psicologi è pronto ad accoglierti per lavorare insieme a te con tecniche e tecnologie scientificamente validate per aiutarti a regolare le tue emozioni e insegnarti a farlo anche a casa, grazie a un'app che ti guiderà a replicare alcuni esercizi fatti insieme. Relief, il tuo sospiro di sollievo, il tuo switch emotivo.